Invece di farmi del male, di indurmi a vanità i doni che il buon Dio mi ha prodigati senza che glielo chiedessi, mi portano verso di Lui. Vedo che Lui solo è immutabile, che Lui solo può colmare i miei desideri immensi. Gesù si è compiaciuto di soddisfare anche altri miei desideri d'altro genere, desideri infantili simili a quello della neve per la mia vestizione. Lei sa, madre cara, quanto io amo i fiori. Facendomi prigioniera a quindici anni, rinunciai per sempre alla gioia di correre nelle campagne smaltate dai tesori della primavera. Ebbene, mai ho avuto più fiori che da quando sono entrata nel Carmelo. E' usanza che i fidanzati offrono spesso dei mazzi alle fidanzate. Gesù non lo dimenticò. Mi mandò in gran numero mazzi di fiordalisi, margherite, papavari, eccetera, di tutti i fiori che mi piacciono di più.